Noi aspettiamo di arrivare a questo tavolo nazionale che è già predisposto e lì però vogliamo sapere sulla base di quale prospettiva e di quale strategia e di quale piano industriale e lo vogliamo sapere non dai dirigenti dello stabilimento con tutto il rispetto che si deve avere nei loro confronti ma lo vogliamo sapere dalla corporate, lo vogliamo sapere dai proprietari e capire che prospettiva c'è perché se permettete siamo di fronte un po' a un paradosso cioè siamo in un mercato quello dell'automotive che sta andando bene, in un settore quello del turbo che sta andando particolarmente bene in presenza di uno stabilimento che a detta del gruppo è il migliore stabilimento più performante dell'intero gruppo e invece nel gruppo più performante viene lasciata la produzione che è quello del turbodiesel che non è esattamente la produzione che avrà più futuro e per di più vengono da un po' di tempo replicati dei codici cioè viene in pratica copiati dei pezzi di produzione e trasferiti in Slovacchia e tutto questo non ci fa presupporre che ci sia una strategia rassicurante sul futuro Diciamo che è un incontro propedeutico a mettersù una discussione in sede ministeriale l'azienda si è impegnata ad arrestare il processo di backup quindi l'operazione che sta facendo e che dovrebbe portare lo stabilimento di preso in Slovacchia a saper fare quello che si fa qui ad Atessa e ovviamente non c'è l'impegno a rilanciare il sito, non c'è nessun impegno sul futuro c'è l'impegno però a cercare di andare avanti con la discussione per arrivare ad avere maggiore chiarezza sul futuro del sito di Atessa quando a settembre ci incontreremo Intanto c'è una presa di posizione da parte della regione la quale ha suggerito sia al sindacato che all'azienda di bloccare il backup e nello stesso tempo di rallentare le nostre azioni sindacali il nostro obiettivo però deve essere il ministero, deve essere il governo al tavolo con la proprietà americana per poter guardare al futuro dopo il 2020 Grazie